L'Istituto Curcio, con sede ad Ispica, offre ai ragazzi diversi indirizzi di studio. In questa rubrica ci occuperemo del liceo classico, la cui specificità consiste nell'acquisizione di conoscenze teoriche approfondite e ricche, disgiunte da un metodo di studio rigoroso e critico, strumenti indispensabili per l'approccio a qualsiasi facoltà universitaria. La lingua italiana è fondamentale, per cui le basi vengono date proprio da un approccio linguistico corretto e da questo momento poi si comincia a partire con le lingue classiche. Lo studio che noi realizziamo è uno studio che deve essere molto operativo. I ragazzi sono chiamati a studiare le regole, a memorizzarle, ma soprattutto a comprenderle a fondo. Dopo averle comprese le applicano all'interno di contesti. Sono portati a tradurre dei brani che non sono dei brani, spesso non sono brani costruiti ad hoc. Spesso recuperiamo i testi originali e su quelli, opportunamente facilitando il lavoro, spingiamo i ragazzi a conoscere, a scoprire gli elementi della civiltà, del pensiero, dei latini, dei greci e collegandoli ovviamente a ciò che oggi, a quelli che sono i temi, i temi attuali.